Il cimitero rimarrà chiuso al pubblico per tre giorni dal 28 febbraio al 2 marzo. La chiusura è stata stabilita per poter effettuare le operazioni di Diserbo e dunque il pubblico non potrà accedere sia durante il trattamento che nelle 48 ore successive. L'intervento di Diserbo riguarderà i cigli delle strade interne, i marciapiedi, i tetti e le facciate dei colombari comunali, le facciate interne dei muri perimetrali e i muri di sostegno interni al cimitero. Saranno solo tre i giorni in cui non ci si potrà regare a trovare nostri cari al cimitero. Sarà infatti bietato l'accesso al pubblico e sospese tutte le attività, comprese le tumulazioni. Sarà comunque garantito l'accesso delle salme che saranno messe in deposito per questi tre giorni nella camera mortuaria. Chiusura necessaria per permettere alla pulizia e allo scelbamento di tutta l'area cimiteriale. La pulizia e scelbamento fortemente ha voluto questa amministrazione che ha programmato queste attività nel rispetto dei nostri cari e di tutte le persone che vi si regano.